Quali saranno le tendenze di acquisto del futuro? Sicuramente i consumatori sono molto più interessati a prodotti di qualità, prodotti sicuri, prodotti innovativi. Che cosa vuol dire questo dal punto di vista sia dei produttori che dei distributtori? Innanzitutto offrire qualche cosa di nuovo, qui vediamo con grande interesse una profondità di assortimento che sicuramente stupisce rispetto a quello mediamente a cui siamo abituati oggi, quindi prodotti interessanti, prodotti nuovi, prodotti che sappiano incuriosire. Contemporaneamente dicevo prodotti sicuri e prodotti garantiti, quindi tutto quello che è anche un'informazione, un'educazione sulle differenti tipologie di prodotto è importante. Il terzo aspetto è il tema della soluzione, quindi devono essere prodotti già pronti per offrire una soluzione pranzo. Se esponiamo in un punto vendita differenti tipi, ad esempio di pomodoro, diventa molto importante riuscire a spiegare a che cosa serve una particolare tipologia di pomodoro, se più adatta per l'insalata, per il sugo, quale modalità di preparazione e di utilizzo. L'ortofrutta, i prodotti di frutta e verdura sono sempre al centro della dieta, soprattutto della dieta mediterranea, quindi i clienti del futuro saranno tutti, saranno tutti ma saranno clienti che acquisteranno, guarderanno, valuteranno i prodotti in aree ortofrutta in maniera diversa rispetto al passato. Non più le grosse massificazioni a prezzi molto bassi, prodotti di provenienza incerta, ma prodotti di qualità, prodotti spiegati, prodotti sostenibili, prodotti con una storia e prodotti che offrano una soluzione ai consumatori.